stefan che gioca con un cagnolino come si chiama che marca labrador cane mia cugina piccolo come e poi diventa grande piccolo e poi diventa grande intenzioni belliche vedo c'è la racchetta non si non si racchetta il cane guarda come muove la gamba da oggi toglie l'accarezzi con l'uomo togli lascia la mano lascia la mano guarda come fa adesso facciamo ecco in automatico lui parte con la zampetta si è bilaterale è un guano bilaterale un b se stai guano parlo mai dietro le mosse le mosse le mosse sono guano caggione è normale ma che stai mangiando? foglie? si mangia le foglie ma che stai mangiando? ma che stai mangiando? ma che stai mangiando? ma che stai mangiando? ehi piano stefan stai piano? stai piano? stai piano? ma vuoi la pipì? non devi fare la pipì la partigiala qui piano brutto muso ma se te l'hanno preso un ore piano piano fai cosi guarda climbed ooo piaaano sta mangiando la che? la lo mozzo e ora lo mangi? no piano 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 ora sta la cartiginica dove è nascosta la cartiginica la cartiginica piano piano non tirò si fa così come cacca e pipì? tu cacca e pipì? e basta la pianta la ti dai la pianta no niente acqua no niente acqua niente acqua poi ti metto quinsaglio come va? poi film grazie 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 grazie